Ornella Vanoni ha rivelato dettagli preoccupanti sulla vita attuale di Adriano Celentano, confermando ciò che Teo Teocoli aveva già anticipato. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! In un'intervista al Corriere della Sera, la celebre cantante ha parlato dell'isolamento volontario dell'iconico Molleggiato, spiegando che Adriano Celentano non esce più di casa per paura dei virus, una scelta che considera comprensibile. Secondo Ornella Vanoni, questa fobia del contagio sembra averlo portato a ritirarsi non solo dalle scene, ma anche dalla vita sociale. Teo Teocoli, grande amico di Celentano, aveva già destato allarme qualche tempo fa, dichiarando di non avere più contatti con lui da oltre cinque anni. Teocoli ha descritto un Adriano completamente chiuso in se stesso, che non risponde al telefono e che sembra aver tagliato i ponti con il mondo esterno. Ornella Vanoni, confermando queste preoccupazioni, lo ha descritto comunque come una persona sempre deliziosa, ma ormai isolata. Adriano Celentano ha compiuto 86 anni a gennaio e, anche se la sua salute non è più quella di un tempo, il ritiro totale dalla vita pubblica ha lasciato i suoi fan e i colleghi con un grande vuoto. Questa scelta di isolamento sembra essere una risposta diretta ai timori del mondo moderno e alla vulnerabilità che l'età comporta, soprattutto in un'epoca di grande incertezza sanitaria. Ornella Vanoni, che presto compirà 90 anni, ha anche riflettuto sul tema della morte, dichiarando di non temerla, ma di essere pronta ad affrontarla quando sentirà che il suo tempo è giunto. E tu di chi preferisci ascoltare le canzoni? Adriano Celentano o Ornella Vanoni? Commenta qui sotto e metti like. Grazie a tutti.